Torna il sereno in casa Maranto dopo le incomprensioni dei giorni scorsi tra Orgoglia Maranto e i maggiori azionisti della società sportiva Rezzo. Si è infatti svolta ieri una riunione operativa tra i soci e i membri dell'organigramma, un tavolo che ha prodotto i risultati sperati, dunque rientrata la crisi e ribadita la volontà di far fronte a tutte le spese necessarie per il saldo della debitoria sportiva e per l'iscrizione al prossimo campionato. Si farà fronte in tempi utili al versamento di ogni risorsa economica per completare ogni impegno assunto al momento dell'acquisizione dell'azienda sportiva, si legge nel comunicato congiunto pubblicato da società sportiva Rezzo e da Orgoglia Maranto. Nel corso della riunione emersa proseguono ancora una volta l'unanimità di intenti tra le varie componenti, ovvero quella forma di solidarietà, amicizia e reciproca stima che ha permesso sin ad oggi quell'impresa sportiva che rimarrà sicuramente nella storia della squadra Maranto. Gli sportivi aretini potranno confidare sull'assoluto impegno che tutte le componenti presenti hanno ribadito e cioè conclude la nota che con programmazione e competenza il calcio ad Arezzo potrà ritornare ai livelli del passato. Ancora attesa invece per quanto riguarda il nuovo allenatore a Maranto, il successore di Pavanel potrebbe essere annunciato all'inizio della prossima settimana.